Questo Di bene alza un pallonetto Omingez cerca di spingere su Salandro che si difende a rete con le unghie E qua una vibora a grata Però Tamame riesce a recuperare un pallonetto qua Uh Salandro ha un grandissimo recupero Incredibile cosa ha fatto Incredibile qua picchia di bene un altro recupero di Omingez Altra palla verso Tamame Grazie